Allora, qui stiamo provvedendo alla rimozione dei rivestimenti con l'aiuto di un martello cromatico misura maneggio di circa 3 kg una prolunga a rotella in modo che i fili non si intrecciano troppo mascherina, occhiali, guanti e le cuffie per l'umore acustico e si lo vede alla rimozione facciamo vedere come è sempre ok è molto semplice come si vede con caldo 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 caldo